Si va verso la riattivazione del pronto soccorso all'ospedale Maresca di Torre del Greco, che secondo i piani dell'ASNapoli 3 Sud sarà nuovamente operativo a partire dalla seconda metà di giugno. Intanto dallo scorso sabato la struttura di via Montedoro è covid free e l'azienda sanitaria sta riorganizzando l'assistenza ordinaria in tutti i presidi ospedalieri di pertinenza. Ai microfoni di TV City il direttore sanitario aziendale Gaetano Donofrio illustra i programmi da portare avanti nei prossimi mesi. Da sabato scorso anche Torre del Greco, che ricordo nella seconda ondata proprio per la sua conformazione era stata diciamo strutturata come second hospital dopo Bosco Tre Case, è stata completamente resa covid free, proprio dove poter riavviare quel processo di assistenza ordinaria. Quindi quando sarà riattivato il pronto soccorso all'ospedale Maresca? Facciamo due step. Il primo step è che il reparto della dottoressa Pisacreta, che ha svolto brillantemente questa attività di covid hospital, inizia già ad essere di supporto. Poi per quanto riguarda il pronto soccorso, voi sapete che anche durante il covid noi non abbiamo cessato di lavorare per migliorare l'offerta assistenziale di Torre del Greco e pertanto stiamo completando il percorso di sei ambienti per una subintensiva od hobby. Però siccome i tempi di lavorazione prevedono 3-4 mesi ancora e ovviamente noi non vogliamo tenere ancora chiusi il pronto soccorso per 3-4 mesi, con l'ingegnere Visone cerchiamo adesso di compartimentalizzare gli spazi in modo che dal 16 giugno, 20 giugno, riapriamo anche il pronto soccorso. Questa amministrazione è abituata a rispettare gli impegni. Un anno fa quando abbiamo compartimentalizzato Torre del Greco, anche rispetto allo scetticismo e anche ad alcuni attacchi ingiustificati che pensavano che fosse una manovra strumentale a chiudere per sempre Torre del Greco, abbiamo dimostrato con i fatti che così non è. E d'altra parte, in questi giorni stiamo finendo di completare la ristrutturazione delle camere operatorie. Se avessimo ipotizzato un ospedale in disarmo, non avremmo investito questi soldi. Oltre alla riattivazione del pronto soccorso ai sei posti di subintensiva, che cosa si prevede a Torre del Greco nel breve e nel lungo termine? Ma guardi, innanzitutto si prevede un'ortopedia, che a Torre del Greco manca da tantissimi anni. Ovviamente con una differenziazione, nel senso che puntiamo su un'ortopedia pulita, quella cosiddetta legata alle protesi, perché il traumatismo ovviamente presuppone una rianimazione laddove c'è il politrauma e quindi sarà allocata successivamente a Bosco Trecase. Questo significa anche che l'oculistica, che probabilmente è una delle branche di eccellenza, avrà un suo spazio operatorio. Quindi non solo per quanto riguarda il problema delle maculopatie, ma anche delle cataratte. È la stessa Autorino, che ovviamente ha potuto sviluppare pochissimo in questo arco temporale, ha questa opportunità. Invece per quanto riguarda Bosco Trecase, che da un anno a questa parte è la struttura di riferimento Covid di questa azienda, qual è il futuro? Bosco Trecase resta Covid Hospital fino a quando avremo la certezza che l'epidemia di Covid è stata finalmente stoppata. Dopodiché è un ospedale che aveva 50 posti letto prima del Covid. Ci troviamo, non per bacchetta magica, ma per una volontà forte di programmazione, di gestione, con un ospedale di 120 posti letto, di cui 13 di rianimazione. Invece per quanto riguarda gli altri presidi? A Castellammare stiamo lavorando per l'emodinamica, perché questo abbiamo fatto il concorso con il nuovo primario e l'obiettivo dopo l'estate, entro settembre-ottobre, dipende anche dai momenti tecnici, è aprire l'emodinamica a Castellammare.